Ehi là! Si che c'è? Mi servi, puoi venire? Non posso, sto comprando i vestiti! A posto, sbrigati e vieni qua! Ma non li trovo! Che intendi non li trovi? Che non li trovo, c'è solo zuppa! Che intendi per c'è solo zuppa? Vuol dire che c'è solo zuppa! Beh, esci dal reparto delle zuppe! Ok, non c'è bisogno che alzi la voce! C'è altra zuppa! Ma che vuol dire c'è solo zuppa? Giuro, c'è solo zuppa! Vai al prossimo reparto! C'è ancora zuppa! Ma dove sei? Sono alla zuppa! Che intendi sei alla zuppa? Il negozio si chiama zuppa! In che negozio stai? È un negozio di zuppa! Perché compri i vestiti al negozio di zuppe? Vaffanculo!